Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR, nel video di oggi come potrete notare ho girato il filtro del microfono e non tutto il microfono come qualcuno potrebbe pensare, soltanto il filtro per dare un effetto leggermente diverso sia a livello di whispering sia a livello di percezione dei suoni, proprio perché il video di oggi sarà prevalentemente incentrato sui suoni, come probabilmente avrete già intuito dal titolo. Sono andata da Tiger e in realtà ormai più di un mese fa ho comprato questa cosa, però non avevo ancora avuto modo di usarla. Sono andata da Tiger appunto e ho comprato questa qui che chiamano PlaySand, e vedete Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Questa scatolina devo dire si presta molto 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 al tapping. Comunque aprendola... se riesco si trovano due scomparti in uno ci sono due paia di occhietti finti un corno da unicorno una coda da unicorno e una cresta credo sia una cresta da unicorno non ho ben capito il motivo però ci sono queste cose provo a spacchettarle anche solo per fare qualche suono in unicorno rimane il prodotto che è di questo bel rosa spero non macchie devo capire come aprire spero di non sporcarmi le mani non so cosa aspettarmi spero anche di non sporcare qui intorno sembra una cosa che potrebbe sporcare spero di non Ok, fatto un po' un disastro a tutto, rimettere qui dentro, spero, che strano, devo assolutamente trovare in modo di farvi capire, è una via di mezzo tra la sabbia, tipo la sabbia bagnata quando è molto collosa. Vedete, non è sabbia, è solida, però allo stesso tempo si scretola come la sabbia. Vedete, sto cercando di compattarne un pochino per farvi capire più o meno come funziona. Non credo che voi possiate sentire qualcosa, ma perché non fa rumore? Vedete, allora, così vi rendete conto che è una cosa più o meno solida, ok? Però in realtà se ne prendete un po', tipo così, vedete, si sbriciola come sabbia. Voi non avete idea di cosa sto combinando, sto sporcando. Sì, sì, è proprio un mix tra sabbia e colla, vi giuro, è stranissimo. Sto cercando di rendere più grande questa. Vedete, ogni tanto perde sabbia, perché è sabbia. È un mix tra sabbia e colla, vi giuro, è stranissimo. Se lo trovate da Tiger, tanto costa, penso, tipo un euro, due euro. Vi consiglio di provarla, mi sto sporcando tutta io e sto sporcando tutto attorno a me. Però è una figata, perché è un po' strana, vi giuro. Adesso provo a prendere gli occhi di prima. Ecco, qui c'è un occhio. Allora, provo a metterlo così. Prendo anche l'altro. Ok. E abbiamo questo mostriciattolo. Non è carinissimo? Dai, è carinissimo. Che bello. Ma che amore che è. È troppo carino. Dategli un nome. È un amore. Con gli occhietti così. Non avete idea di quanto mi stia rendendo felice e allegra questa cosa tonda e rosa. E che figata. Un po' pomico. Qui in realtà c'è altra sabbia nella scatolina, ma io non riesco a prenderla, vi giuro. Ti provo. Ho fatto un po' ingrassare l'amichetto. E stavo pensando che potrei aggiungerci anche un po' un corno. Ecco. Così si chiama io. Ok. Non trovate che sia bellissima? Io credo proprio di sì. Ah, io sto staccando. Vedete? No. Guardate cosa succede. Vedete? Ritorna. Se io provo a separarlo, ritorna sabbia. Com'è possibile? Si separa come sabbia. Guardate. Guardate. È sabbia. È una grandissima figata. Mi sto divertendo da morire in questo video. Sappiatelo. Vedete? Sappia. Sappia. Così sembra una roba tipo slime. Oppure una cosa che prende la forma. Così. Ritorna sabbia. Se io lo apro, ritorna sabbia. Che figata incredibile Tutta questa sabbia che vedete che sta cadendo Chiaramente sta cadendo tutto attorno E dopo dovrò pulirla, dovrò toglierla Che divertimento è Però al momento è molto bella Questo che sto facendo Vedete sì, scredola come sabbia Grazie a tutti Grazie a tutti Vedete quella che ho in mano Prende la forma come Della pasta modellabile Mentre invece Quella che cade sotto forma di sabbia E che tengo sull'altra mano È totalmente diversa Non è in questo modo Vedete Vedete, è proprio Prende la forma Mentre invece Questa qui È come se fosse sabbia Cioè Se faccio così Tipo Prende la forma Però Qui è sabbia Se la tocco diventa Prende la forma Però Non so se riuscite a vedere Come se fosse Sabbia Praticamente Bene C'è di positivo Che non mi ha Macchiato le mani Però Di negativo C'è che ho sporcato Tutto Interno Vabbè Vabbè Fa niente Facciamo finta Che vada bene così E Detto questo Io spero che Nonostante un po' Il disastro Combinato con Questa Specie di sabbia Magica Una sabbia strana Questo video Vi abbia in qualche modo Rilassato Io mi sono divertita Da morire Però spero che anche Che vi abbia Intertenuto E rilassato E vi dico Che ci vediamo Direttamente Nel prossimo video Grazie per avermi Fatta compagnia Oggi Ciao a tutti